...è andato in via Cravero, zona Regio Parco, a Torino, per vedere le operazioni di pulizia da parte dell'ATC, ma i cittadini non sono d'accordo. Vediamo perché. Pulizie di mezz'estate con polemiche. L'Agenzia Territoriale della Casa di Torino si presenta con un esercito di pulitori, il Presidente Rossi, il Vicepresidente Piccoli, i consiglieri Calabrese e Parvopasso, per rimettere a nuovi trascurati i giardini di via Cravero con tanto di fontana, che se sprizza acqua finisce nella bolletta dei condomini e non va bene, che se ristagna è sporca e non va bene, e se proprio l'acqua non c'è come adesso non va bene uguale. I cittadini hanno da ridire anche sui cassonetti che, se non chiami l'Amiat, non vengono mai a ritirarti i rifiuti cosiddetti speciali. La TCI ha il suo bel progetto di ripulire queste schifezze, ma con i giusti consigli da parte dei residenti. Come vedete oggi all'ordine del giorno c'è la ramazza, olio di gomito, stanno pulendo anche i dirigenti dell'ATC, anche il Presidente Elvi Rossi, tra poco ci andiamo anche noi, siamo qua nei giardini di via Cravero, il quartiere zona Reggio Parco, tante le cose da fare per riqualificare questi giardini, c'è anche la fontana della discordia, ma è un quartiere questo che sarà presso soggetto ad una riqualificazione. Eppure, eppure non tutti la pensano alla stessa maniera. Qui siamo più di dieci anni messi così, abbiamo pagato acqua infinita e dicono che non si può togliere sta geggio perché è un affare storico, però è quello. La geggio sarebbe la fontana? La fontana, sì. Quindi lei abita qua e cosa vorrebbe che facessero? Che si porta via, si fa una pulizia, visto che abbiamo tutti questi bidoni in mezzo alla strada, anche nel passaggio Caraio, si fa un oasi e si mettono i bidoni qua invece che rimangono. Non schercare, qui deve rimanere una zona verde per i bambini che giochino, al massimo, togliere i bidoni che stiano lì. Allora, scusa, questa fontana qua noi l'abbiamo chiusa perché consumiamo tanta acqua, quindi c'è un degrado anche che c'è la fontana. Per adesso il Presidente ha detto che viene pulita e viene rimodernata. Però poi bisogna tenerla pulita? No, bisogna tenerla pulita. Allora, siccome non c'è nessuno qui che riesce a amministrare bene la situazione, allora abbiamo deciso noi qua, tutti questi che abitiamo qua in questa zona, di eliminare la fontana e fare un asfalto e fare un gioco, un po' d'erba, un po' di verba. L'asfalto o l'erba? L'erba, l'erba, l'erba. L'erba perché? Senta, vediamo, sentiamo che non tutti sono della stessa opinione, lei ad esempio? No, ma io vorrei dire la vasca, io avevo detto sempre di riempirlo di terra e ti metto una bella albera in mezzo. Però tutti hanno un'idea diversa? No, più o meno è quella l'idea che è uscita fuori, di togliere la vasca. Allora, guarda, io voglio dire, là c'è una madonnina, la vediamo? Speriamo di non doverci rivolgere alla madonnina per avere una soluzione. No, non ci dobbiamo risolvere, deve risolvere il proprietario, se il proprietario non vuole spendere i soldi, noi possiamo risolvere i problemi. Il proprietario chi è? Il comune? No, è l'ATC, è più comune l'ATC, questi i problemi, ci deve aiutare, però ogni volta che andiamo lì i soldi non ce n'è. L'altra volta abbiamo speso 5.000 euro per metterlo a posto, ci voleva il motore per rigenerare l'acqua, ci costava troppo e non hanno messo. Fin qui dunque la voce dei residenti e poi il nostro Cristiano Tassinaglia ha ascoltato invece c'è anche quella che è la risposta dell'ATC. E allora ascoltiamo la voce dell'ATC nelle parole del Presidente che è Elvi Rossi, al microfono di Cristiano Tassinaglia. Siamo in compagnia di Elvi Rossi, Presidente di ATC, Agenzia Territoriale per la Casa Torino, siamo in via Cravero per provare a sistemare e a pulire questo giardino di una zona che presto sarà riqualificata. Come stanno le cose? Assolutamente sì, questa zona sta ottenendo un grande risultato dal punto di vista di quelle che sono le riqualificazioni ambientali che si fanno. Noi stiamo sistemando oltre 1.000 alloggi in questa zona tra Corso Taranto, Via Cravero eccetera e serve che le cose che stiamo facendo sono il rifacimento dei tetti, il cambio dei seramenti, le cappottature e il riscaldamento che diventa teleriscaldamento. Tutti questi lavori che sono assolutamente importanti e preziosi servono per riqualificare questo ambiente con queste belle case che vengono a questo punto riammodernate. Nel contempo, mentre stiamo cominciando a fare questi lavori, ovviamente vediamo anche un poco di degrado, qui c'è una splendida ex fontana e un giardinetto che un po' per l'incuria, un po' per la non curanza appunto di tutti è rimasta un poco abbandonata e allora oggi abbiamo voluto venire qui e fare una piccola attività di pulizia che è quella che facciamo noi come amministratori di ATC e anche i dirigenti di ATC che hanno spontaneamente partecipato anche all'iniziativa, iniziativa che vuol dire pulire queste uole, tenerle bene, conservarle e cercare di fare che riqualificando le case in questo ambiente anche il contesto in cui si vive, dove ci sono tanti bambini che giocano eccetera, sia un contesto urbano gradevole in cui si sta bene e in cui è piacevole andare a prendere il fresco sotto due alberi. e noi adesso lasciamo